Due vecchietti dentro un parco a sedere su una panchina. C'è uno che è tutto allegro, no? Alla l'altro gli fa, oh, ma com'è sei così contento? Quello gli fa, eh, stanotte mi sono fatto una scopata. Ma perché ancora ti saddrizza? E a me sì, c'è, perché a te a me mi saddrizza più niente, oh, ci ho provato con tutto. Ma che il vecchietto gli fa, ma per curiosità, ma quanto pane ti mangi al giorno? Quello gli fa, io mi mangio una rosetta, ma di che? Te più, te ti mangi cinque, sei rosette. Oh, il segretario ti viene un martello. Il vecchietto tutto fomentato, la mattina dopo scende del buon mattino e entra dal fornaio solito, no? Come entra il fornaio e fa così, buongiorno Salvince, la solita rosetta? Lui fa, no, no, dammi sei rosette. Il fornaio fa, sei rosette? Ma guarda che poi ti diventa duro, ma li martesci tu adesso me lo dici?